Questa domenica in Benin si tengono le elezioni presidenziali. Un voto che si contraddistingue per la democraticità. In base alla Costituzione del 90, l'attuale presidente Boni Ayyi non può essere rieletto perché ha già sostenuto due mandati consecutivi. Boni Ayyi ha scelto di non ripresentarsi. La decisione di lasciare il potere, come prevede la legge, spicca in un momento in cui i leader africani di diversi paesi, Burundi, Rwanda, Repubblica del Congo, stanno cambiando la Costituzione per poter fare un terzo mandato. In Litz, 33 candidati, tra cui il premier Lionel Zenzou, appoggiato dal presidente uscente. Zenzou è un economista che fino a un anno fa guidava il più importante fondo di investimento francese Pae Partners ed è accusato di essere troppo vicino alla ex potenza coloniale. Tra i candidati anche due donne, una è Marie-Élise Bedot che si presenta per la quarta volta. Grazie a tutti!